Sono stata arrestata per un dipinto. Ne vado fiera. La prima cosa che ho fatto in carcere è stato chiedere materiale per dipingere. La risposta è stata, è vietato, è ammessa solo la penna blu. All'inizio dipingevo con l'immaginazione, poi un giorno ho pestato il prezzemolo, ho spremuto le olive, poi la curcuma, uso anche il sangue mestruale. Sono in carcere. Ma l'edera della mia anima arriverà ovunque, finché avrò con me la mia matita e i miei pennelli. La Turchia oggi è un quadro nero, con un'amministrazione che si nutre di sangue. La gente non sa più se dire la verità sia un gesto da eroe o da terrorista. Poi immaginare il stesso sogno per sei mesi, ogni mattina. La giusta, le bar. Le bar. Non ho nessun rimpianto. Non ho nessun rimpianto.